Non si hanno amici nel poker, anche quando giochi, non so, con i tuoi amici, andate in un casino, sono comunque avversari? Sono avversari, sì, sempre. O ti comporti in maniera diversa? No, 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 assolutamente. Coppia di otto? Niente, voglio difendere questa coppia, sai? Mi sembra giusto. Race per otto? No, anche di più. No, 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 c'è stato un race da parte di SS Lazio. E noi facciamo un re-race, 3 euro e 10. Sì, sempre molto lungo vai, eh? Wow, questo è un bellissimo flop, secondo me. Puntiamo un po' più di mezzo piano. Punto qualcosina in più, così a me non rimane più nulla. 3 euro e 50. Eh, alla coppia più alta, una coppia. Ci giochiamo un 80-20? È ormai sì. È ormai. Ormai devo... Vediamo? Eh, te l'ho detto che aveva la coppia di 10. Ah, il tuo primo repai! Immaginavo che aveva la...